Gabbia. Francesca ha detto una sera a Tonino, lui si chiamava Giacomo Magrini, adesso ha un nuovo nome, Lazzarò. Abbiamo stretto subito amicizie. Nella miseria ci siamo specchiati. Guardiamo insieme l'arido Ruizou. Lei viene qualche volta a farci visita. Nella borsetta un sacchetto di arachidi. Le passa tra le sbarre e sgranocchiamo, trasfigurati dalla nostalgia, per un'Africa assente, per le Americhe. Ecco che la sua voce si allontana, gabbia solcata da mille sospiri, sorretta da lievissimi singhiozzi.